Ma se volessi girare d'inverno con temperature abbastanza rigide, devo ingrassare o smagrire la carburazione? Oppure se d'estate comincia a piovere e l'umidità tocca quasi il 100% quando prima non era così, devo toccare qualcosa nel carburatore? Ciao biker! Video dedicato completamente ai parametri che influenzano la carburazione. Dammi fiducia e vedrai che farò chiarezza su un argomento un po' ostico. L'idea di questo video mi è venuta durante l'ultima pistata del 2022 che giusto per specificare era il 12 di novembre. All'uscita di ogni curva il carburatore scoppiettava alla grande e da là ho pensato di fare questo video e di affrontare l'argomento nella sua completezza. Personalmente con temperature sull'asfalto inferiori a 10 gradi io la moto la lascio a casa e faccio riposare corpo, mente e motore. Ma se proprio non puoi fare a meno di dare gas anche con il gelo, questo video ti sarà d'aiuto per poter carburare la moto con qualsiasi condizione ambientale. Per capire bene tutto il discorso e prima di rispondere alle domande interessanti, dobbiamo partire dalle definizioni. La carburazione è la somministrazione all'interno del motore di una miscela composta da aria e benzina in uno specifico range compreso tra 14,5 e 14,8. Questo significa che a ogni litro di benzina che ha un volume più o meno pari a questo, ci vogliono 9 metri cubi d'aria che ha un volume più o meno pari a una stanza da 3 metri. Cioè la differenza di volume tra le due componenti è enorme. Naturalmente il rapporto di miscela deve rientrare in questo range in ogni fase di apertura dell'acceleratore, altrimenti avremo una moto scarburata o ai bassi o ai medi o agli alti. Ed è proprio questa la difficoltà della carburazione, saper trovare gli appropriati getti del massimo e del minimo, la corretta punta e tacca dello spillo per mantenere costantemente il rapporto di miscela a 14,7. Semplice a dirsi, un po' meno a farsi. A questo punto però dobbiamo ritornare alla definizione del rapporto di miscela e analizzarla bene. È il rapporto tra la massa di aria e quella di combustibile aspirato dal motore. E sembra incredibile ma è proprio e solo da qua che nascono tutti i problemi, ovvero dalla variazione del peso dell'aria e della benzina con le diverse condizioni atmosferiche. E faccio già un'anticipazione. Sempre che non si lasci la tanca di benzina al sole, la variazione della densità della benzina è abbastanza contenuta nel range tra 15 e 25 gradi. Quindi il problema principale deriva dalla variazione del peso dell'aria che, come abbiamo già visto, in confronto alla benzina ha un volume enorme. Prima di continuare voglio ribadire il concetto perché deve essere chiaro e lo voglio fare con un bel carburatore fresco fresco di revisione. Nel momento in cui stiamo andando a carburare a perfezione una moto con determinate condizioni ambientali, stiamo andando a fissare il volume di aria e il volume di benzina che entrerà all'interno del motore. Meraviglioso! Nel momento in cui vado a riprendere la moto con altre condizioni ambientali, il volume di aria e il volume di benzina che entreranno all'interno del motore saranno identici a prima, ma quello che cambierà sarà il peso dell'aria ed eventualmente il peso della benzina. Chiaro? Bene, adesso senza perdere ulteriore tempo vediamo un programmino che ho creato che fa capire i concetti base. Naturalmente come filosofia del canale vuole è a disposizione di tutti e scaricabile nel link in descrizione. Partiamo! La densità dell'aria, ovvero la sua massa in un volume unitario, cambia al variare di tre parametri. La pressione atmosferica, l'umidità relativa e la temperatura. Per convenzione il peso standard dell'aria è di 1,225 kg metro cubo ed è misurato alla pressione di un'atmosfera, ovvero 1013 millibar, con umidità relativa 0% e a 15 gradi. Appena cambio uno di questi parametri il valore si aggiorna. Per chi vuole approfondire meglio l'argomento sono riportate le formule corrette. Ora manteniamo fissi i primi due parametri e facciamo variare la temperatura inserendo i valori in un grafico così da capire tutto a livello visivo. Come era logico aspettarsi più aumenta la temperatura più la densità dell'aria diminuisce in quanto è risaputo che un fluido più caldo di un altro tende a stratificarsi verso l'alto in quanto pesa meno. Dal grafico si può vedere subito quanto la temperatura influenzi il peso dell'aria. Per esempio tra 30 gradi e 10 gradi c'è una differenza dell'8% che non è assolutamente trascurabile anzi. Facciamo lo stesso ragionamento con la pressione ovvero manteniamo fissa l'umidità relativa e la temperatura e vediamo come varia la densità dell'aria con la sola pressione che a grandi linee quando è bassa è brutto tempo mentre quando è medio alta è bel tempo. L'andamento della densità dell'aria con la pressione presenta un andamento contrario rispetto a quello della temperatura. Uno va giù e uno va su, aspetto molto importante per la carburazione. Anche in questo caso la densità dell'aria è abbastanza influenzata dalla variabile però in maniera minore rispetto alla temperatura in quanto la differenza massima tra gli estremi è poco più del 6%. Al contrario del grafico precedente qui ci sono due rette per evidenziare come a differenti temperature il comportamento del peso dell'aria al variare della pressione è identico ovvero entrambe le rette sono parallele quindi che ci sia bassa o alta temperatura al variare della pressione ho lo stesso comportamento. Se vuoi puoi sbizzarrirti nel cambiare la temperatura e vedere cosa succede. L'ultima variabile che influisce sul peso dell'aria è l'umidità relativa. Si può notare subito come non sia così influente l'umidità sulla densità dell'aria considerando specialmente che per l'Italia bisogna partire dal 50% in su e per la pianura padana si può tranquillamente considerare dal 65% in su. Anche in questo grafico ho aggiunto due rette isoterme e il fatto che le linee non siano tra di loro parallele come nel caso precedente fa capire come ci siano differenti comportamenti della densità dell'aria al variare dell'umidità. Questo perché più aumenta la temperatura più l'aria è in grado di immagazzinare vapore e acqueo. Si può notare infatti che già a 5 gradi l'aria non è praticamente influenzata dall'umidità ovvero è una retta orizzontale mentre più la temperatura aumenta più l'aria tende ad alleggerirsi con l'aumentare dell'umidità. A conferma di quanto detto se ritorniamo nella schermata iniziale del programma vediamo che esistono formule semplificate del calcolo della densità dell'aria che non tengono neanche conto dell'umidità e che hanno una percentuale di errore non troppo elevata. Come già ribadito nei grafici si può notare come pressione e temperatura siano direttamente e inversamente proporzionali alla densità dell'aria. L'ultimo grafico che vediamo è l'andamento del peso del carburante al variare della temperatura ma attenzione questa volta è la temperatura della benzina non quella atmosferica. Come detto all'inizio sempre che non si lasci la tanica al sole la variazione del peso della benzina in un ipotetico range tra 15 e 25 gradi è relativamente trascurabile. Ora che abbiamo visto un po' di teoria passiamo alle domande che più ci interessano. Dato che ci sono molti fattori che influenzano il rapporto stecchiometrico bisogna costantemente ricarburare la moto? Dipende. I carburatori sono leggeri, facili, non necessitano né di elettricità né di elettronica ma sono sensibili e ignoranti ed è per questo che sono stati sostituiti dagli iniettori. Il fatto che ci sia un range di utilizzo nel rapporto stecchiometrico fa sì che ci sia anche un altrettanto range di utilizzo in diverse condizioni ambientali o magari quando siamo fuori di poco da questo range di rapporto stecchiometrico non ci rendiamo neanche conto che la moto va meno rispetto a prima. Qual è il miglior periodo per carburare la moto? A questa domanda è semplice rispondere carbura la moto nel periodo in cui la utilizzi di più quindi presumibilmente d'estate e con una bella giornata. Se comincia a piovere e ad esserci molta umidità devo ricarburare la moto? A parte per la tipica perturbazione passeggera che comunque anche quella varia i parametri ambientali nel momento in cui piove generalmente si abbassa la temperatura e la pressione mentre l'umidità si alza. Come abbiamo visto temperatura e pressione sono per fortuna contrari quindi nel momento in cui diminuiscono entrambi c'è una sorta di ribilanciamento che permette di variare di poco il rapporto stecchiometrico. Per l'umidità abbiamo visto che grossi problemi non ci sono. Se ho carburato la moto d'estate e voglio correre durante l'inverno con basse temperature devo ricarburare la moto? Sì decisamente. Se sono belle giornate d'estate è caldo con medio alta pressione mentre d'inverno è freddo e la pressione tende ad alzarsi. Se proviamo a fare una simulazione infatti d'estate con 1015 millibar e 30 gradi otteniamo una massa d'aria di 1,152 kg m3 e un peso della benzina di 748 grammi litro. D'inverno invece delle condizioni atmosferiche ipotetiche potrebbero essere 1030 millibar e 7 gradi con un peso della benzina di 752 grammi litro. C'è una differenza di più del 10% che è enorme e siccome è positiva e al numeratore del rapporto stecchiometrico c'è la massa dell'aria significa che abbiamo il 10% in più di massa d'aria che entra nel motore quindi si dovrà ingrassare la carburazione per riportare questa differenza al di sotto del 1-2% massimo. Ebbene il video termina qua nonostante la complessità dell'argomento spero di essere stato il più chiaro possibile. Se nel finale mi sono dimenticato di qualche domanda sarò lieto di risponderti in un commento qui sotto. Metti un bel mi piace e ci vediamo alla prossima carburazione staccata. Ciao!